Polmone verde che torna alla piena fruibilità, sicuramente più spoglio e meno rigoglioso rispetto al passato, pur sempre in un momento di gioia per tutta la comunità. La pinetina di Vallevo a Rocca San Giovanni, devastata dall'incendio dell'agosto 2021, è stata così riconsegnata dopo accurati lavori per la messa in sicurezza dell'area. Gli alberi cadenti o bruciati sono stati rimossi, tutta la zona è stata ripulita dai detriti, realizzati canali perimetrali per le acque. Un intervento finanziato dalla regione Abruzzo. Al felice momento hanno partecipato il sindaco Caravaggio, il vice Everì, l'ingegnere Antonio Rossi direttore dei lavori e ancora l'agronomo Nicola Zinni, i rappresentanti delle associazioni e i volontari. Noi come amministrazione comunale appena insediati ad ottobre 2021 abbiamo subito messo in campo tutte le progettualità necessarie per ottenere i finanziamenti da parte della regione che approfitto per ringraziare pubblicamente un finanziamento di mezzo milione di euro che ci ha permesso appunto di, come vedete alle mie spalle, di eliminare tutti gli alberi che sono stati denunciati dall'incendio, di riaprire i canali perimetrali che consentono il corretto defluire delle acque e quindi oggi è appunto una giornata lieta per tutta la comunità che può simbolicamente riaffacciarsi su quello che è il nostro ritorale che è veramente bellissimo. Pinettina riqualificata e messa in sicurezza ma che merita successivi interventi, dalla ripiantumazione agli aree urbani alla sistemazione del colle sottostante a strapiombo sull'Adriatico. Il comune di Rocca San Giovanni è deciso a completare entro breve l'opera. L'assessore al territorio, Erminio Verì. Cercheremo di ritrovare delle risorse per fare in modo che si vengano fatti ulteriori interventi di ripiantumazione e anche con degli aree di urbani, con delle panchine, per garantire insomma la massima fruibilità di quest'area così bella. Per quanto riguarda il colle sottostante? Per quanto riguarda il colle sottostante noi per adesso abbiamo garantito, ha messo in sicurezza l'area. Il centro abitato di Vallevò attraverso gli interventi fatti sulla canalizzazione hanno garantito il corretto deflusso delle acque piovane e quindi speriamo che poi ci dovrà sicuramente essere impiegata in ulteriori somme perché purtroppo il finanziamento che abbiamo avuto abbiamo fatto degli sforzi enormi per raggiungere questi obiettivi e quindi per il futuro invece dobbiamo reperire altre risorse per intervenire anche a valle per quanto riguarda gli alberi che sono andati perduti purtroppo anche lungo il costone.